Quello di oggi, come è stato ricordato, è il passaggio delle consegne. Il passaggio delle consegne ha conosciuto anche nella storia istituzionale degli enti locali della Regione una precisa sacralizzazione. In passato, quando non c'era l'elezione diretta, il passaggio delle consegne trovava addirittura una formula anche di massima celebrazione davanti ad una espressione dello Stato che raccoglieva il giuramento. Ed era il momento in cui si sacralizzava il passaggio e con il passaggio delle consegne si rendeva anche noto l'arrivo del nuovo responsabile, cioè del nuovo Presidente. Il passaggio di consegne evoca uno dei momenti fondativi della futura attività amministrativa, il passaggio delle conoscenze, il passaggio delle consapevolezze, il passaggio anche delle principali iniziative in corso e in corsa. Per questo tipo di attività noi siamo al lavoro in maniera tale che non si debba ricominciare da zero. Stiamo producendo una fotografia di tutte le attività in corso, sia quelle che meriteranno ulteriore spingimento, sia quelle che meriteranno una vera e propria adozione oppure quelle le iniziative che magari verranno lasciate poiché non condivise. Avrà la forma anche tipica di una delibera in maniera tale che dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni, cittadini, forze politiche, parlamentari regionali eletti, nuovi decisori, potranno sapere qual è il punto di partenza. Su questo piano una tradizione non c'è stata, noi la impianteremo, cioè di un passaggio di consegne che abbia il peso del tema, la quantità e la qualità del non disperdere nulla che è stato portato avanti fino ad oggi. Io sono convinto di un fatto, che l'Abruzzo ha due regioni, c'è una regione che è l'ente regione per il quale ci sono contratti di lavoro in corso, ci sono elezioni che stabiliscono chi sta alla guida e poi c'è una regione invece dell'economia, delle imprese, delle famiglie, dei giovani, delle associazioni. Io ritengo che la legittimazione dell'ente regione derivi di quanto l'ente regione si accorga del significato e del valore della vita regionale. Noi introdurremo anche delle innovazioni sul piano procedimentale, voi sapete che la regione parla attraverso atti, ci sono le delibere di giunta, le delibere di consiglio, le leggi, ci sono le attività che determinano anche indirizzi e orientamenti nei confronti della struttura. Noi faremo in modo per esempio che si introducano sedute della giunta a valenza tematica in corrispondenza delle quali sedute della giunta si approfondiranno anche questioni che magari non sono ancora mature per essere oggetto di un provvedimento e queste sedute tematiche della giunta si terranno anche all'esterno dei luoghi tipici di convocazione della giunta, nei luoghi magari di principale ambizione e potenzialità della regione ma anche nei luoghi di principale affanno e dolore della regione. E non appena l'assetto statutario lo consentirà anche i consigli regionali per quanto mi riguarda verranno invitati a visitare, a rilevare, a stabilire una conoscenza diretta anche in corrispondenza dei luoghi proprio per la territorialità di questa classe dirigente, sapendo che nel nostro caso territorialità non viene dalla radice tematica di terreo e terrificante ma viene appunto da una radice assiologica che chiama in causa tutta la vita che c'è sul territorio. Noi siamo anche consapevoli come amministratori che non dobbiamo firmare provvedimenti, i provvedimenti sono di competenza dei dirigenti, dei funzionari e dei direttori, però gli amministratori che per quanto mi riguarda sono funzionari onorifici posti in essere dal voto dei cittadini dovranno parlare per indirizzi, per programmazione e soprattutto per valutazione e misurazione di ciò che il processo decisionale metterà in campo. Saremo rigorosi prima di tutto con noi stessi, noi eletti e poi lo saremo nei confronti anche della struttura funzionariale lavorativa poiché ci aspettiamo molto conoscendo il grande valore della struttura funzionariale della regione Abruzzo e quando parlo di regione Abruzzo penso sia all'interregione nelle mura dei palazzi dell'interregione ma penso anche alle società partecipate, alle strutture diciamo seconde e terze di questa importante macchina amministrativa. Voglio cogliere questa occasione per farla essere a tratti anche momento di lavoro, non ci saranno mai più delibere fuori sacco, se succede un fatto disastroso, implacabile, imprevedibile solo la Presidenza cioè il Presidente può predisporre un atto che necessitato sia fuori sacco e quindi privato della completa istruttoria dei servizi competenti. La delibera fuori sacco di per sé è un calcio alla programmazione. Io ho avuto la fortuna di studiare da vicino gli atti del primo programmatore che la regione Abruzzo ha avuto che si chiama Emilio Mattucci che il Presidente Chiodi giustamente ha richiamato come il Presidente più longevo in assenza di elezione diretta e lui ha raccomandato quasi con la preghiera laica alla regione di ricordarsi che è un ente di programmazione, ogni delibera fuori sacco è un livido alla cultura della programmazione. Le sedute di giunta si terranno una volta alla settimana alle 18, alle 18 poiché c'è la possibilità di concentrazione di raccoglimento e anche di poter contare su una giusta convocazione anche del resto della struttura che deve consentire la perfetta riuscita del processo decisionale. Valorizzeremo molto le conferenze che ci vedono partecipi a livello nazionale o internazionale. Penso alla conferenza Stato-Regioni, alla conferenza dei Presidenti e al Comitato delle Regioni d'Europa, perché di lì passa l'approvvigionamento normativo, lo ripeto, normativo di cui ha bisogno la vita della regione e accanto all'approvvigionamento normativo di cui ha bisogno la regione passa anche un pezzo dell'approvvigionamento programmatorio e finanziario di cui ha necessità la regione. non possiamo essere una regione junior nel panorama delle regioni senior dell'Italia e dell'Europa. La puntualità non solo dell'orologio, ma la puntualità della preparazione tematica farà la differenza tra un prima che non coincide necessariamente con chi c'è stato prima di me, ma con un prima che è un fatto di comportamento culturale e un dopo che noi dobbiamo assicurare. I confronti con le altre regioni italiane ed europee devono essere vinti dalla regione Abruzzo, perché l'Abruzzo ha più problemi delle altre regioni. Voglio cogliere quest'occasione per dire che c'è un'opportunità in cammino riguardante la parte di popolazione più delusa, purtroppo meno motivata dell'Abruzzo che la parte di popolazione giovanile, che rispetto all'appuntamento, appello di garanzia giovani, troppo pochi sono i ragazzi abruzzesi che hanno risposto iscrivendosi all'appello. Noi davanti al mondo giovanile ci giudichiamo quella legittimazione che vale di più del voto, che è la legittimazione che poi si chiama autorevolezza, che poi consente anche una condizione di autorità e di decisività. Dobbiamo fare in modo che gli imprenditori di questa regione tornino a ritenere conveniente programmare e dialogare il loro progetto di vita con i poteri pubblici. Noi dobbiamo comunicare alle imprese che investono tempo, risorse e vita che vale la pena stare a sentire, coprogettare e affidarsi per la parte di nostra competenza al potere pubblico principale che è l'ente regione. Noi dobbiamo offrire quella grande banca che è la banca del tempo che si chiama come servizio velocità, facilità, funzionalità, comodità. Altrove in Europa le regioni sono capaci di fare questo, anche noi dobbiamo essere capaci di fare questo. Abbiamo da destinare per la vita della regione, quando la vita della regione significa intrapresa, qualcosa come 2 miliardi di Euro nei prossimi 7 anni. Non sono interessato a fare i compiti a casa fuori tempo massimo, mettendo insieme soltanto cumuli di carte che magari passano a un vaglio soltanto formale dei controllori solo formali che ci sono nelle filiere istituzionali. Noi dobbiamo fare in modo che le risorse finanziarie vadano ad incoraggiare la vita reale delle imprese, carne e sangue della vita reale delle imprese. Per cui facciamo i bandi per tempo, stabiliamo le regole per tempo, stabiliamo bandi e regole per consentire informazione e qualità di progetti di vita delle imprese. Dobbiamo fare in modo che tutto il contenzioso derivante dalla vita precedente, che mi interessa solo per la parte in cui ci deve passare il testimone, tutto il contenzioso venga conosciuto e venga conosciuto nel tempo T con 1 che è il tempo nel quale noi ci introduciamo. Vi chiedo la massima collaborazione rivolta ai dipendenti dell'ente in maniera tale che non emergano nel futuro che ci si avvicinerà e che si allontanerà dal passato come se fossero dei funghi imprevedibili. È partita nella giornata dell'altro ieri una nota firma mia a tutti i dirigenti e direttori per conoscere anche le situazioni potenzialmente debitorie. In maniera tale che noi possiamo assumere il pieno governo della condizione che ci riguarda. Voglio anche mettervi in evidenza due dati. L'Aquila città capoluogo va aiutata a tornare a correre, non solo a vivere ma a correre, nel suo essere mura delle case, mura delle associazioni ma anche vita delle imprese, vita culturale e vita della comunità. Anche in termini simbolici, lo chiedo anche in questa occasione quasi sacrale, la struttura si compieghi al suo più alto livello per concepire una norma che consenta all'Aquila, città capoluogo, di essere capoluogo della regione e di erogare con facilità e comodità i servizi che le vengono chiesti. Così come dobbiamo fare in modo che chi viene ad investire all'Aquila, veicolando lavoro ed economia, trovi condizioni procedurali particolarmente accelerate. Dobbiamo fare in modo anche che in Abruzzo finalmente diventi una certezza la digitalizzazione, la digitalizzazione intesa come dematerializzazione di tutto il processo amministrativo e decisionale. Davanti alla stampa che giustamente è qui voglio che si sappia che sono interessato a dotare la giunta e la presidenza di uno strumento tecnologico che consenta la piena ricostruibilità delle volontà e la piena memoria remota. Quello che voi chiamate webcam io voglio che diventi un elemento di arricchimento tecnologico per consentire alla cittadinanza, ma non solo la cittadinanza, di seguire ciò che si concepisce, ciò che si fa sia in giunta che in presidenza, avendo come limite per quanto riguarda la giunta il fatto che è un organo che a volte ha bisogno anche della riservatezza, ma esclusi i momenti nei quali c'è bisogno di riservatezza, tutto ciò che costituisce approfondimento tematico e confronto e momenti di lavoro che si tengono nella sala giunta così come nella presidenza, io voglio che dall'inizio alla fine conoscono una puntualità di seguibilità da parte dell'utenza. Così come rendo certo che è mia volontà che si istituisca e utilizzo questo momento per dirlo alla struttura, nel momento anche di massima presentazione alla pubblica opinione, che si stabilisca l'anagrafe patrimoniale degli eletti, per cui disponete una nota per chiedere che si sappia di che cosa è costituito il patrimonio degli eletti e la consistenza anche economico-finanziaria diffusamente intesa. Mi impegnerò ad elaborare a stretto giro di posta una nota con la quale ciascuno, di sicuro della maggioranza, obbligatoriamente di chi governa, renda noti coloro i quali sono i portatori di interessi conosciuti e frequentati dagli amministratori. Io per esempio ho la fortuna di conoscere 90.000 persone in questa regione e di avere con 90.000 persone rapporti anche di cordialità, di prossimità anche, di condivisione, di pensiero, di progetto riguardante la vita collettiva. Io voglio che almeno i portatori di interessi di questa grande parte dell'Abruzzo vengano da me rivelati, è chiaro che ho bisogno anche di una collaborazione per ricostruire tutti coloro i quali io conosco in questa regione. Non ho avuto nel mio passato e neanche nel mio tempo presente come requisito l'estraneità rispetto alla società abruzzese. Ho sempre avuto in grande simpatia e considerazione la collettività, non mi sono mai iscritto tra coloro i quali facendo politica hanno coltivato o la lontananza o l'odio nei confronti della cittadinanza. Concludo con una riflessione di carattere quasi storicistico. Io nel mentre assumo questa funzione che il Presidente Emerito Chiodi ha voluto giustamente concorrere alla buona riuscita, sento tutto il peso di questa responsabilità. Primo perché so che la terra d'Abruzzo ha dato sepoltura a dei giganti, se penso al 600, al 700, all'800 abruzzese, giganti che hanno consentito addirittura delle punte di pensiero che hanno reso ricco non solo il paese Italia ma anche l'Europa. Penso alla sepoltura che ha avuto in terra d'Abruzzo la persona ma anche il pensiero, l'elaborazione di un gigante come Melchiorre delfico di Teramo che ha saputo pensare per primo al mondo il valore delle zone franche fiscali o il valore dell'alfabetizzazione culturale attraverso le biblioteche. O se penso a Giuseppe De Vincenzi di Notaresco che è stato un gigante nel pensare all'economia agraria e anche il diritto agrario. Se penso a Filomussi Guelfi di Tocco Casauria che addirittura è arrivato a concepire l'alleanza dei territori per costituire un'Europa competitiva, si è posto il tema della proprietà pubblica dell'acqua o a Dragonetti per quanto riguarda il riconoscimento giuridico dei meriti e dei bisogni, a Silvio Spaventa per quanto riguarda per esempio il rapporto paritetico tra cittadini e Stato nei processi decisionali della pubblica amministrazione, a Giovanni da Capestrano, a Marino da Caramanico, a Luca da Penne che sono stati dei formidabili evangelizzatori sia sul piano religioso ma anche dal punto di vista giuridico, a Giuseppe Capograssi di Sulmona e a tanti altri che ometto qui di citare. Tutto questo mi dà una grande responsabilità perché so che io sono in questo momento per cinque anni guida dell'Abruzzo, di un Abruzzo così grande. Io vengo da una famiglia nella quale mio nonno era un balbuziente per via della durezza del lavoro che ha dovuto sopportare, è stato a lavorare in Africa, i fratelli di mio padre hanno perso la vita e la salute lavorando nelle miniere di Marsinelli in Belgio, la mia elezione è la prova dell'esistenza della democrazia, io non faccio di cognome come è noto né Sardi de Letto né Zugaro de Matteis, che erano delle famiglie influentissime della provincia dell'Aquila, della zona di Sulmona ma non solo, che naturalmente avevano un potere di orientamento sociale per cui se anche ci fosse stata allora l'elezione, l'elezione l'avrebbero conseguita per prossimità a centri di moltitudini di cittadini elettori. Io l'ho dovuta conquistare attraverso un confronto quotidiano con i problemi degli elettori, dei territori nei quali vivono gli elettori e questo per me è il filetto della democrazia. La mia curiosità verso la regione come livello di governo territoriale nasce nel 1988 quando sento parlare uno straordinario intellettuale della decisione pubblica, Emilio Mattucci, voi sapete che è un'intelligenza frutto anche di quella straordinaria comunità cittadina che è Atri secondo me al quarto o al quinto posto per bellezza di comuni in Abruzzo, il quale è dota per la prima volta l'Abruzzo di una legge sulla programmazione, la 92 dell'88. Affascinato da quel pensiero, da quella legge, la mia tesi di laurea per la facoltà di scienze politiche che ho fatto è stata gli effetti socio-economici dei piani di sviluppo della regione Abruzzo e naturalmente ho potuto conoscere da vicino quando la programmazione conclude i risultati e quando la programmazione è liturgia, è soltanto rito che magari produce sorriso a favore di coloro i quali firmano gli atti di programmazione, le società esterne, i tanti produttori esterni e magari non arricchisce di sé il processo di lavoro della comunità che invece è chiamata a programmare perché programmando si spende di meno e durano di più i risultati. Io quello che vi chiedo è di dare una mano a questa classe dirigente perché è una classe dirigente che ha come ambizione il ritrovamento dell'ambizione della comunità regionale. Giorni fa sono stato a parlare con i vertici dell'Expo e mi hanno donato un concetto che è straordinario. Loro dicono che l'Expo si pone come ambizione di dare cibo al cibo e il cibo che dà cibo al cibo è l'acqua. Noi vogliamo essere coloro i quali danno cibo al cibo dell'Abruzzo, noi vogliamo dare ambizione all'ambizione dell'Abruzzo. Quello che più mi ha preoccupato in questi lunghi 16 mila chilometri di ascolto che ho fatto in giro per l'Abruzzo è la caduta verticale dell'ambizione. Che significa? È come se si pensasse che ormai non c'è più nulla da fare. Le imprese non investono, i consumatori non consumano, gli studenti non studiano, i decisori non decidono. Questa per me è la più grave patologia che ha prodotto questa regione. Non parlo dell'ente regione, è l'insieme della R minuscola e della R maiuscola. Il nostro compito, il mio compito è di ristabilire il diritto all'ambizione che poi coincide col diritto al futuro. Io sarò a volte anche, come si può dire, implacabile con la pretesa di lavoro, a partire da me stesso e si lamentano su questo i miei familiari e i miei conoscenti. Però è la maniera migliore per rispondere ad una chiamata di così straordinario rango e senso qual è la chiamata ad un ruolo pubblico. Credo che sia la più straordinaria vocazione chiamata. Io ho sempre preso in giro i miei due genitori, entrambi hanno lavorato alle poste. Ho detto loro, voi non avete mai provato la gioia di vedere l'esito del vostro lavoro. Chi fa il decisore pubblico, chi lavora in una pubblica amministrazione ha un privilegio. Se si applica, chi lavora nella pubblica amministrazione vede l'esito del lavoro. Questo è un privilegio degli artigiani, dei falegnami, dei muratori, degli ebanisti, di coloro i quali lavorano loro. Applicandosi vedono l'esito del lavoro. È straordinario. Questo credo che assomiglia a un dono di Dio rispetto alla dimensione del lavoro quando non è soltanto fatica, ma anche l'inalzamento di sé. Io vi chiedo di aiutarmi con il massimo della collaborazione di cui siete capaci. Perché noi faremo in modo che questa regione ricominci a donare, a configurare, ad assicurare diritti, opportunità e futuro. Concludo con una sottolineatura. Oggi è una cerimonia che noi facciamo sapendo qual è il valore anche sacrale delle cerimonie. Io voglio fare una riunione con tutti i dipendenti della regione a Pescara e all'Aquila e poi voglio fare un incontro con coloro i quali hanno rappresentato l'Abruzzo anche semplicemente pensando per conto dell'Abruzzo. Ci sono delle personalità in Abruzzo, penso, ne cito uno per tutti, Raffaele Colapietra, sarà una persona permanentemente ascoltata da me poiché mi aiuterà a concepire e pensare a Abruzzo. Non pensare all'Abruzzo ma pensare a Abruzzo. Accanto a Colapietra chiederò consiglio a persone tipo Edoardo Tibboni, Bruno Sulli e Gidio Marinaro, Don Gabriele Orsini, Emiliano Gian Cristoforo, Enrico Graziani, Francesco San Vitale, Luca De Meo che è un giovane abruzzese che ha fatto successo dovunque nel mondo e che ha un grande rapporto con l'Abruzzo, adesso è l'amministratore delegato di Audimondo, Roberto Marinucci, Pierluigi Sacco, Nicolo Mito, i tre rettori, insomma tutti coloro i quali hanno a cuore questa regione e non hanno cessato di pensare a favore dell'Abruzzo. Io vi ringrazio molto, stringo la mano a ciascuno di voi, vi chiedo davvero fate in modo che noi riusciamo a fare coincidere desideri e fatti per questa regione. Grazie. Grazie.